Ciao a tutti, la proposta di legge che vi presento oggi è una proposta molto semplice. Attualmente sono previste delle ipotesi che sono cause di interruzione del processo di primo o di secondo grado e queste ipotesi sono previste nel codice di procedura civile. Però il codice di procedura civile non prevede che questi stessi fatti che comportano un'interruzione nel primo e secondo grado comportino un'interruzione anche per il processo in corte di cassazione. Allora, quello che fa questa proposta di legge è stabilire che se un fatto comporta l'interruzione del processo di primo grado o del processo di secondo grado, così come è già previsto dal codice di procedura civile, deve anche comportare l'interruzione del processo in corte di cassazione. Leggete la proposta di legge, date come al solito tanti consigli, ci vediamo su Russo. Leggete la proposta di legge